ciao amico bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato ripreso da un genitore durante una passeggiata in un bosco con i suoi due figli durante il filmato uno dei due bambini non dà qualcosa di strano muoversi in mezzo ad alcuni cespugli a quel punto il padre tenta di capire cosa sia riprendendo il tutto con la sua telecamera ciò che viene filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza il video mostra un uomo mentre cammina ad un certo punto l'uomo viene aggredito da un ladro durante l'aggressione l'uomo cade a terra ed è proprio a questo punto che succede qualcosa di veramente incredibile il filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento filmatoare il documentoлibo filmatoare il documento una telecamera di sicurezza installata nell'abitazione di una giovane madre cattura in video un fenomeno paranormale che spaventa a morte la giovane donna ciò che viene ripreso mette davvero i prividi ma andiamo a guardare il documento un professore di una scuola in messico documenta in video l'apparizione di quella che sembra essere la figura di una bambina che apparirebbe frequentemente proprio nella scuola in cui il professore insegna il filmato è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento una telecamera di sicurezza cattura una strana creatura umanoide mentre tenta di prendere qualcosa su di un albero lo stesso albero sembra che venga spinto giù da una forza invisibile ciò che viene ripreso ha dell'incredibile ma andiamo a guardare il documento ma andiamo a guardare il documento in una strada di campagna coperta da alcuni alberi una donna sta viaggiando tranquillamente nella sua auto quando ad un certo punto nota qualcosa di strano appeso ad un albero non sapendo cosa fosse la donna decide di filmare il tutto con la sua telecamera ciò che viene filmato è davvero spaventoso ma andiamo a guardare il documento ciò che viene e anche per oggi è tutto ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di scrivermi nei commenti vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao